La malattia di Charcot-Marie-Tooth è una patologia che colpisce i nervi periferici, purtroppo molto grave, per la quale mancano cure specifiche. Noi ci siamo fatti spiegare le ricerche in corso, soprattutto un registro che sta raccogliendo dei dati molto importanti, i cui dati sono stati presentati qui in anteprima al congresso di Genova della Periferal Nerve Society. Ce ne siamo fatti spiegare da chi questo registro l'ha coordinato, dal professor Pireson. Professor Pireson, innanzitutto una breve premessa sulla patologia, di che cosa si tratta esattamente? La malattia di Charcot-Marie-Tooth è una neuropatia genetica, quindi ereditare, causata da mutazioni in geni importanti per il nervo periferico, ce ne sono tanti, quindi ormai sono note quasi 100 geni associati a questa malattia, ci sono alcuni più frequenti, altri meno. Neuropatia quindi causa una debolezza, atrofia muscolare che parte dai piedi, lentamente risale a colpire le gambe e le mani e causa anche una riduzione della sensibilità negli stessi distretti in maniera progressiva, con gravità variabile, ci sono forme esodio e precoce, decorso molto rapido, grave. Altre, molto più comunemente, esordiscono lentamente, con una lenta progressione, consentono una vita relativamente normale, con uno spend di vita normale, però con limitazioni che possono essere anche importanti e significative. È abbastanza frequente, perché pur essendo una malattia rara, colpisce una persona ogni 2.500, vuol dire 20-25 mila soggetti in Italia affetti. Senti, professore, voi da qualche anno avete istituito un registro, un registro italiano molto importante, ecco, innanzitutto com'è nato, perché è una cosa interessante. Questo è un bel esempio di collaborazione fra diversi portatori di interesse nella malattia, nella medicina, perché è nato dalla collaborazione tra associazioni di pazienti, in questo caso in particolare la CMT Rete e un'alleanza con Teleton, che hanno costituito l'associazione del registro, che ha creato la piattaforma, c'è stato poi il coinvolgimento dei centri clinici, nove in Italia, attraverso anche le associazioni scientifiche, quindi una collaborazione tra diversi portatori di interesse che ha portato questo registro. Abbiamo iniziato il reclutamento, la particolarità è che il paziente che decide di registrarsi via sul website, c'è un website, si registra, viene generata una mail al centro di riferimento che viene scelto dal paziente, il paziente viene visitato, vengono raccolti i dati clinici poi immessi nel registro e assolutamente anonimizzati. Registri di questo tipo sono importanti perché permettono di raccogliere dati epidemiologici sulla distribuzione e diffusione della malattia in Italia, consentono di reclutare più velocemente i pazienti nei trial clinici che stanno per arrivare e consentono anche di definire le caratteristiche della malattia per meglio poi programmare l'assistenza. Qui a Genova, al Congresso Internazionale PNS, sono stati presentati i primi dati scaturiti dal registro, ci può anticipare qualche cosa? Presentiamo i dati, abbiamo ormai oltre 800 pazienti che si sono registrati e hanno scelto il centro, abbiamo visitato e immesso i dati per la grandissima maggioranza di loro, la grande parte ha anche una diagnosi genetica definita, quindi possiamo valutare l'epidemiologia e la distribuzione delle mutazioni in Italia, ci sono certe mutazioni più frequenti in certe zone, certi geni più frequenti al nord, altri al sud, definiamo meglio la gravità della malattia e abbiamo un pool di soggetti affetti che sono disponibili a partecipare a trial clinici. E forse anche questo network di medici coinvolti alla malattia che cresce insieme dal punto di vista scientifico? Assolutamente, c'è un network molto forte e solido con veramente una collaborazione anche tra amici ormai con nove centri italiani che hanno collaborato a diversi progetti con una buona integrazione, siamo molto contenti di questo e anche del rapporto con i pazienti. Che futuro c'è per il trattamento di questa patologia? Terapie farmacologiche purtroppo non ne abbiamo ancora, al di là di quella sintomatica, però ci sono diverse sostanze allo studio, in modelli animali, cellulari, anche in sperimentazioni cliniche fatte o iniziate che sono promettenti, interessanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.